Corre la B, una fortuna per chi come le Pescara ha subito la possibilità di buttarsi alle spalle la sconfitta di Reggio Calabria. Per la terza gara in sette giorni ecco il Grosseto, reduce dal rotondo successo sul Porto Gruaro. Francesco Moriero, che ha preso la guida dei Maremmani tre turni fa, due vittorie e una sconfitta allo score, sembra riuscito a dare quelle identità che il predecessore Apolloni stava faticando a trovare. Undici punti in classifica il Grosseto, uno in meno dei Biancazzurri. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha una grossa considerazione dei Biancorossi. Grosseto è una squadra che dentro casa ha fatto benissimo, ha ritrovato anche i tre punti da quando è arrivato Moriero. Giocano con un classico 4-2-3-1 anche se a Padova hanno giocato in maniera 4-3-3. Hanno sofferto, per me arriveranno qui giocando con 4-2-3-1 che è un po' il modulo prediletto che predilige Moriero. Con gli attaccanti in piedi invertiti, con gli esterni in piedi invertiti, ho visto giocare Bondi e Alessandro sugli esterni. Buona squadra, secondo me ha degli ottimi elementi in avanti, però noi andremo sicuramente a fare la nostra partita per cercare di imporre il nostro gioco. È un po' la legge che in questo momento vige all'Adriatico. Diverse le novità possibili nell'undici biancazzurro da mandare in campo. Potrebbe essere la volta buona dell'impiego dal primo minuto di Marco Verratti. Marco è un ragazzo di 18 anni, bisogna farlo crescere, lo ribadisco per l'ennesima volta, magari domenica sabato parte il titolare, non lo so. Nulla da fare invece per il recupero di Maniero. Toccherà di nuovo a Sanzovini reggere l'attacco con il supporto proprio del piccolo fenomeno di Manopello. In mezzo al campo Tognozzi continua ad avere problemi fisici, c'è Nicco in preallarme. Si rivedrà sicuramente, scontata la squalifica, Andrea Gessa, uno degli ex, insieme a Mengoni, Pinna, Sanzovini e a Bonanni, che troverà una maglia sulla corsia opposta. Nelle retrovie Mazzotta lascerà il posto a Petterini, Grosseto senza il capitano Consonni, fischio d'inizio fissato per le 15, arbitra Piero Giacomelli di Trieste. Grazie. Grazie. Grazie.